Il workout di questa settimana prevede due movimenti, Barbie Broad Jump e Hang Squat Snatch. In questa versione No Gear abbiamo tanto volume che richiede una buona condizione cardio. Prepariamo i nostri femorali con il nostro Ion per due minuti per lato. Come possiamo poi recuperare al meglio? Ecco, possiamo accelerare il ritorno venoso e quindi il recupero utilizzando la compressione dei nostri Air. Utilizziamo la compressione di Air per favorire il ritorno venoso. Partendo dalla pianta del piede fino alla coscia miglioriamo la condizione a libero sistemico e non solo dell'arto inferiore. Per questo Air è molto consigliato quando abbiamo un carico aerobico molto elevato come in questo caso. Per tanti consigli utili e curiosità seguite Comtex Italia su YouTube e mettete la campanella.